questa è una pizza di pizza, sono come l'Elisabetta, hanno dei gatti non è neve, è troppo grande ma lui se l'è preso per me lui pure stava in casa sì, penso di sì ciao, piccola, piccola volpina, sembra una volpe è vero no, infatti ciccio, più stellino, dammi la pallina no, ma che anni fa, tu sei giovane sei a 7 anni è vero 2016 ah, 4 anni ma no, perché non mi sembra giovane dai dei sei un giovanotto tu e quindi se lavo male sei un giovanotto vieni qua vieni qua sì, comunque lui ha un chiletto pesa sì, eh sì, ma però anche perché ha molto pelo, capito quindi è minuscola è minuscolo quanto è carino sì, è vero sì, è vero è vero guarda qua ma sei un cane tu ma sei un cane? eh? o sei un coniglietto? vuoi giocare con la pallina? guarda, guarda che ti do vedete la pallina? guarda, guarda guarda ai ai sì, gioca guarda come sto dico ma lui non condivide niente eh, infatti si arrabbia lui sì, è un po' come la vogliamo fare le foto che Claudia sì io almeno lo vedo sì però vi faccio perché c'è la volumbre vieni ti metti paura ragazzi ti lascia ragazzi riesci a morire perché mi devi fare queste tortughe arriva lei guarda dopo lo usiamo anche per lei vuoi un pochettino tu? e voi? ti vede il fiocchetto? tieni è più grande il fiocchetto di te è proprio leggerissimo mamma mia come la vogliamo messa? io riporto le ho fatte in braccio perché c'è uscito il sole prima è passata è partito il flash questo mezzo orecchio fa ridere è troppo lì no